Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video, oggi finalmente video all'aria aperta. Volevo semplicemente spiegarvi la procedura per iscriversi ad Ape tramite telefono o comunque anche tramite computer visto che ormai la procedura è cambiata e si fa allo stesso modo sia da computer che da telefono. Allora innanzitutto cos'è Ape? Ape è semplicemente una carta prepagata però completamente gratuita. A differenza per esempio della Postepay che invece fa pagare qualsiasi tipo di commissioni, di prelievo o di acquisto, Ape è sempre completamente gratuita. Ape ovviamente vi consente di fare acquisti online, di prelevare soldi in contanti e scambiarvi anche soldi tra amici. Allora adesso mi sposto un po' più in là perché da questa parte a breve comparirà la schermata del mio telefono. Allora innanzitutto per ricevere 10 euro omaggio con Ape bisogna per forza registrarsi con un link invito perché se per esempio farete www.hype.it e vi registrerete non avrete diritto all'omaggio da 10 euro quindi soltanto tramite un link invito come quello per esempio che vi lascio io in descrizione. Allora aprite per esempio il mio codice invito cliccandoci sopra. Ok si aprirà questa schermata e voi non dovrete fare altro che cliccare su registrati. Allora inizio. Cosa ti serve sapere? Tiene a portata di mano un tuo documento di identità. Registrati dal tuo smartphone o da pc che comunque abbia una webcam. La registrazione rapida e sicura servirà poco tempo. Comunque effettivamente servono circa 5 minuti per registrarsi. La prima cosa che dovrete fare sarà mettere il vostro nome e cognome. Io invento e ci metto Marco Rossi. Codice fiscale. Di mail sempre che me la sto inventando. Marco Rossi 80. Conferma email. Ovviamente dovrete riscrivere la stessa identica email. Marco Rossi. Numero di cellulare. Il vostro numero di cellulare. E conferma il numero di cellulare. Cliccate su continua. Correte. E a questo punto dovrete mettere il cap della vostra residenza. Caltanissetta volvoggi in automatico. Poi ovviamente in base alla vostra città vi apparirà in automatico. Indirizzo e numero civico. A questo punto siccome loro dovranno inviarvi poi la carta fisica. Dovrete specificare se in questo indirizzo che avete messo ci abitate. Oppure se è semplicemente un domicilio. Quindi nel mio caso per esempio coincido con residenza. E faccio continuo. A questo punto la cosa importante che dovrete vedere è che la spunta sia su voglio ricevere gratis anche la carta fisica. E che non sia quindi qui sotto su voglio solo la carta virtuale. Vi raccomando deve essere su voglio ricevere gratis anche la carta fisica. In questo modo dopo un paio di settimane vi arriverà anche la carta fisica appunto per poter fare per esempio i prelievi al bancomat. O acquistare nei negozi insomma. Poi dove vuoi ricevere la tua carta? Nel mio caso presso la mia residenza. Poi in base a quello che avrete selezionato voi vedrete un po' voi dove farvela mandare. Dopodiché dati sensibili dovrete ovviamente dare l'ok. Dovrete dare l'ok anche per il consenso commerciale dell'utilizzazione dell'app. E fare continuo. Altro passaggio importante è il selfie. Allora dovete cliccare sopra questa immagine di quest'uomo e farvi una foto in primo piano con un vostro documento di riconoscimento in mano. Quindi ci cliccate sopra. Io sto inquadrando qui la telecamera vabbè però giro la telecamera verso di me. Ok e ci sono io. Devo farmi praticamente un selfie io assolutamente in primo piano con il mio documento di riconoscimento qui. Così la foto va a venire così. Qui in questo spazio vuoto diciamo dovrà esserci il documento che io tengo in mano. In modo tale che poi lo staff di hype possa riconoscerci e sincerarsi che siamo veramente noi insomma quelli che vogliamo aprire il conto. Dopodiché dovete aggiungere un numero di documento che io ovviamente mi invento. Metto per esempio la carta di identità. Luogo di rilascio Caltanissetta. Data di rilascio 23 marzo 2015. Data di scadenza. A questo punto dovrete caricare altre due foto in questa sezione e cioè nella prima foto caricare il fronte del documento e nella seconda foto caricare il retro del documento. Dopodiché dovrete continuare. Io cerco delle foto stupide se no non ci metto le banane e poi ci metto un'altra foto così se no non mi fa andare avanti purtroppo questo. A questo punto una volta caricate anche queste foto dovrete cliccare su continua e una volta cliccato su continua ci siamo quasi. Il codice invito ovviamente lo prende in automatico una volta che inizialmente avrete cliccato sul mio codice invito. Vi ricordo inoltre che per poi ricevere un omaggio gratuito di 10 euro dovrete completare la procedura non dovrete lasciarla a metà. Quindi la procedura è registrarsi così come vi ho fatto vedere io poi aspettare le email di conferma da parte dello staff o comunque dovrete sempre visionare le mail perché lo staff potrebbe contattarvi per chiedervi per esempio di scattare nuovamente le foto. Altra cosa che poi dovrete fare oltre a controllare sempre le mail per ricevere il bonus dovrete poi scaricare l'app hype. Però la procedura di scaricare l'app hype e poi creare una password per poter usare l'applicazione vi verrà comunicato sempre tramite email quindi voi di vostra iniziativa non dovrete mai fare nulla. Vi contatteranno tramite email e vi diranno la procedura è completa ci vorranno ovviamente dei giorni non è che oggi lo fate già domani avete finito. Dopodiché vi chiederanno di scaricare l'app e voi lo potrete fare. Una volta scaricata l'app e quindi aver fatto il primo accesso in app a quel punto potrete ricaricarvi basterà semplicemente un euro per poi riceverne 10 diciamo che le possibilità di ricarica sono molteplici per esempio potrete ricarvi in un tabacchino potrete andare alla posta potrete farvi mandare un euro da un amico che già ha hype per esempio in modo tale che appunto avrete caricato un euro che è valido per ricevere altri 10. Infine vi si aprirà questa schermata in cui dovrete firmare il contratto dovete cliccare su continua e poi io ovviamente adesso non posso cliccare su continua perché dichiarerei il falso avendo registrato una persona che non esiste però a questo momento in poi la procedura è molto semplice. Bene amici questa è la spiegazione di hype per registrarsi con la nuova procedura e per farlo anche dal telefono. Vi ricordo ovviamente di attenzionare il caricamento delle foto col documento perché quella è la cosa in cui hype rompe più le palle perché poi vi manderanno 10.000 mail dicendovi riscattati la foto scattatidiamo la foto perché fino a quando non è chiara non verrà accettata insomma. Bene amici ci vediamo al prossimo video avevo già registrato tra l'altro un video l'anno scorso su hype io addirittura sono stato il primo a registrare un video di spiegazione di hype l'anno scorso che è andato molto bene vi lascio comunque il link qui in descrizione sostanzialmente lo stesso video di questo che avete appena visto però quella è la procedura da computer ci vediamo al prossimo video.